Allora questa è la terza parte di come mangiare le pari figo d'India fresche e giovani tenere crude quelli come vedete come ho preparato l'ho messo in una bacinella magari si deve un po più grande ma c'ho questa e ci versiamo l'acqua non stare completamente sommesse dall'acqua e così e loro gettano fuori le loro sostanze gelatinose le spellono e si possono mangiare mo ce ne aggiungono un'altra bolla in modo che le copra tutte e poi tra un'ora o un'ora e mezza saranno pronte ok basso buon appetito